di questa export che semplicemente va rimessa in moto dopo tutti questi anni e ferma da un bel po 5 anni che è ferma per cui si si ho visto visto sono di metter le gomme nuove eccola qua con il suo tetto nero molti li modificavano e li facevano bianchi però l'originale è questo allora c'era quella creme che aveva il tetto bianco si esatto anche il verde scuro se tu ti ricordi andava abbastanza quel tetto bianco però beh l'export comunque la maggior parte le hanno fatte così c'era blu l'export con il tetto nero manca la calotta che l'ho messa su una mini di leio però ce l'abbiamo